Una cerimonia nella piazza Simon Bolivar di Bogotà per l'insediamento del primo presidente di sinistra nella storia della Colombia, Gustavo Petro, che salutando Papa Francesco nel suo discorso ha detto abbiamo bisogno di lui per la pace. Capi di Stato e ministri dei paesi a essere i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti hanno partecipato in una piazza addobbata con maniere che raffiguravano farfalle colorate in omaggio al premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. Gustavo Petro ha voluto anche le fasce più povere e le etne più dimenticate tra le priorità annunciate fermare massacri leader sociali e ambientali.